Ehi ragazzi, guardiamo un film? Sì! Sì, facciamolo! Fatemi entrare su internet! Ed ecco fatto! Oh no, la batteria è finita! Che facciamo adesso? Dovremmo andare al cinema! È davvero un'ottima idea! Ma ragazzi, non abbiamo i biglietti! Vincete i vostri biglietti! Vincete i biglietti per il cinema! Vi basterà fare gol e vincerete i biglietti! Avete sentito? Possiamo vincere i biglietti! Andiamoci! Biglietti per il cinema! Possiamo avere un biglietto? Yeee! Bene! Chi inizia per primo? Vado io per primo! Oh, gol! Puoi ritirare un biglietto! Eccolo qui! Ho ritirato il mio biglietto! Sì! Molto bene, facciamolo! Fantastico! Ecco il tuo biglietto! Ho vinto il biglietto! Farà sicuramente gol! Sì! Dai, forza! Oh no! No, non l'ho fatto! Mi dispiace! Nessun gol, nessun biglietto! E adesso che posso fare? Che facciamo adesso? Non può più venire con noi! Ma ho un'idea! Potrei vincere un biglietto per lei! Oh no! Sì! Ecco il terzo biglietto! Grazie! Ed ecco a te! Grazie mille! Non c'è di che? Ciao ragazzi! Biglietti per favore! Grazie! 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 Grazie a tutti! Guardiamo un bel film! Yeah! Sono troppo felice! Abbiamo dimenticato qualcosa! Che senso? Popcorn e bevande, naturalmente! Vendo degli snack! Venite a prendere qualche snack! Avanti! Posso avere dei popcorn? Certo! Sono tre dollari! Grazie! Ecco i vostri popcorn! Grazie! Ora tocca a me! Certo! Cosa vorresti? Posso avere popcorn, per favore? Certo! Fanno tre dollari! Eccoli! Grazie! Posso avere dell'acqua? Certo! Un dollaro, per favore! Grazie! Il film sta iniziando! Cosa? Che cos'è questo? Che puzza! Pronto? Sì! Sì! Grazie! Molto bene! Davvero! Grazie! Sì! Ehi! Che succede? Non si parla al cinema! State zitti! Sì! Ma certo che sono al cinema! È molto divertente! Davvero! Sì! Ehi! Ehi! Bisogna fare silenzio! Non si possono usare i telefoni! Senta! Io devo parlare! Va bene! Non è permesso parlare durante un film! Dammi il tuo telefono! Non è permesso! Cavolo! Sta prendendo tutto fuoco! Non ci credete il fuoco! Fattene! Riaccendete la luce, forza! È così spaventoso! Che sta succedendo? Che significa? Sono problemi tecnici, forse! Ok! Devo aggiustare tutto! Ok! Oh! L'ho sistemato! Ok, ragazzi! La luce è tornata! Potete continuare a guardare il film! È andato tutto bene! È stato così spaventoso! Tutto perfetto! Cavolo! Sta prendendo tutto fuoco! È troppo tardi per il film! Ecco il biglietto! Mi scusi! Scusate, ragazzi! Vi passerò un attimo davanti! Solo un attimo! Capite? Un attimo! Eccomi qui! Ora mi siedo! Ah! Guardiamo questo film! Oh no! Oh no! Questo film è un po' noioso! Dormirò! Questo tizio sta russando! Deve stare zitto! Ehi! Fai silenzio! Stai russando! Cavoli! Ehi! Mi scusi! Si svegli! Che c'ha? Non vede? Oh sì! Guardiamo un film! Oh mi scusi! Mi scusi! Bene ragazzi! Il film è finito! Spero che vi sia piaciuto! Potete andare a casa ora! Ciao! Sì! Ragazzi! L'iPad è carico ora! No! Non voglio vedere un altro film! Ma voglio giocare a caccio con voi! È davvero un'attima idea! Idea fantastica! Andiamo! Vendo giocattoli! Vendo giocattoli! Vendo davvero un sacco di giocattoli! Vendo giocattoli! Vendono giocattoli! Vendo giocattoli! Vendo giocattoli incredibili! Posso comprare un gioco? Certo! Come posso aiutarla? Vorrei proprio questo qui! Bene! Sono esattamente cinque dollari, per favore! Cinque dollari? Mi spiace tanto! Niente soldi! Niente giocattoli! Soldi? Io non ho soldi! Oh no! Niente soldi! Niente giocattoli! Ma che cosa posso fare? Idea! Chiediamo a Sara un po' di soldi! Ciao Sara! Ehi Jason! Posso avere dei soldi? Voglio un giocattolo! Non posso darti dei soldi! Ma puoi guadagnarli! Va bene! Ma come? Farai i piatti, laverai la macchina, inattierai le piante e poi ti darò cinque dollari! Molto bene! Ecco a te Jason! Fammi sapere quando hai fatto! Pronto al prossimo compito! Laviamo la macchina! Ho quasi finito! L'auto è di nuovo pulita! Ora annaffiamo le piante! Finito! Ora voglio i soldi, sì! Sara, posso avere cinque dollari? Hai finito? Tutti le faccende sono finite! Certo Jason! Questi sono uno, due, tre, quattro, cinque... Cinque dollari per te! Grazie mille Sara! Che devo fare con i soldi? Comprare un solo giocattolo? O avviare un'impresa e comprare centinaia di giocattoli? Comprare centinaia di giocattoli? Ciao! Ehi! Vado a fare la spesa! Ti unisci a me! Ok! Andiamo Jason! Jason, dovrebbe essere qui, andiamo! Bene! Prendi le cannucce! Ora ci serve una buona limonata! Andiamo a prenderla! Eccola qui la limonata, Sara! Mettila qua! Va bene Jason, dammi una mano! Dobbiamo scannerizzare da soli! Ok! Iniziamo! Posso pagare, Sara! Certo! Fai pure! Andiamo! Pronto ad avviare la mia attività! Bene! Andiamo! Iniziamo a fare un po' di limonate! Sono super eccitato, sì! Questa è il limonata rosa! Ora aggiungiamo un po' d'acqua! Ed ecco le cannucce! Il mio lavoro ora è finito! Vendo limonata! Vendo limonata, ragazzi! Limonata per voi! Vendo limonata! Ehi, Jason! Ciao a te, Sara! Sarà il tuo primo cliente! Quanto costa una limonata? Una limonata rosa costa 5 dollari! Questi sono 5, tieni! Grazie! Posso prendere questa? Certo! Grazie! Ah! Deliziosa! E beh, allora finalmente posso comprare il mio primo giocattolo! Vendo limonata! Vendo giocattoli! Eh? Qualcuno vende limonata? Ho sete, vado a prenderla! La la la! La la la! Ehi, voglio un po' di limonata! Ciao! Costa 5 dollari! Va bene! Ecco a te! Grazie! Prego! Proviamola! Oh, è così buona! Sì, è fantastica! Posso comprarne un'altra! Naturalmente! Ecco a te! Ciao! Bene, vendiamo ancora un po'! Sono così fortunato! Comprerò un sacco di giochi! Vendo giocattoli! Vendo giocattoli! Ciao, Jason! Hai bisogno? Ciao! Vorrei comprare tutti questi giochi, per favore! Tutti questi giochi? Che cosa? Ragazzi, mettete mi piace! E iscrivetevi! Stiamo proteggendo il diamante! Nessuno toccherà questo diamante, è chiaro? State proteggendo il mio diamante! Ma sì, certo! Nessuno si avvicinerà! Bene! Può stare tranquilla! Lo stiamo proteggendo! Ok! Guarda che bel diamante che ho preso! Bello! Ma non è abbastanza grande! Guarda che cosa ho trovato! Cosa? Che bel gatto! Ma no, Socca! Il diamante! Trove! Quello è enorme! Prendiamolo! Jason, abbiamo lavorato per 40 secondi! Facciamo una pausa! È un'idea davvero fantastica! Forza, andiamo! Let's go! Salute! Amo il mio lavoro! Sì! Non dovreste proteggere il mio diamante! Tornate laggiù! Presto! Oh, mi scusi! Sì, signora! Sì, signora! Che vergogna! C'è scusi! Forza, camminiamo! Camminiamo bene, sì! Camminare e vigilare! Oh, che bel gattino! A forza, prendiamo il diamante! Vedo il diamante! Dammi il trapano avanti! Ehi, attenzione! Guardate! Che cosa? Ehi! Dovete catturarvi! Oh, no! Jason, guarda! Stanno prendendo il diamante! Forza! Ehi, venite subito qui! Forza! Forza, venite qui! Sono troppo veloci! Cavolo! Sì, hai ragione! Andiamo subito nel nostro ufficio! Li abbiamo seminati! Ma dobbiamo avere un piano migliore, lo sai! Io ho un piano! Cerchiamo di ottenere delle prove! Sì, bene! Raccoglieremo tutte le prove! Va bene, forza, andiamo! Perfetto! Possiamo andare! Vediamo un po' che abbiamo qui! Che pensi sia successo, Jason? Sicuramente volevano farsi dei soldi facili! È certo! Concordo! E utilizzando tutti gli elementi che abbiamo, beh... E comprendendo anche questi... Sì! Jason, il citofono! Chi è? Non lo so! C'è una consegna! Chi è? Ho una consegna di ciambelle per lei! Beh, me le faccia vedere! Certo! Oh, beh, bene, grazie! Non c'è di che! Ehi, Jason! Guarda che cosa ho trovato! Forza, andiamo a mangiarle! Tu ti siedi lì ed io qui! Sembrano appetitosi! Quale vuoi? Prendo questo! Io invece questo gattino! Ah! Che sapore ha? Un sapore buono! Sì, molto buono! Sta funzionando! Dammi il cinque! Mi piace molto questo sapore, sai? Sono i migliori di sempre! Ehi! Possiamo usare questo! Andiamo! Ok! Tu vai da quel lato! Io lo metto qui sopra! Ok! Vieni, vieni! Ok, bene! Disabilitiamo quei laser! Ottimo lavoro! E ora prendiamo questo diamante! avanti! Avanti! Spingi! Sbrigati forza! Continua a spingere! Oh no! Dov'è finito il diamante? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Presto! Vai! Presto! Corri! Ehi! Guarda Jason! Fermatevi! Fermatevi! Vi ho preso! Eccovi qui! Forza! Sì! Andrete entrambi in prigione, sapete! E ci resterete! Resterete per sempre lì dentro! In carcere, sì! Non mi piace la prigione! Ma ci rimarrai! Sì, per sempre! Rimarrai lì dentro per cento anni! Non voglio! I prigionieri sono in prigione e il tuo diamante è protetto! Non c'è di che, signora! È il mio diamante e nessun altro lo prenderà! Fa troppo caldo! Molto meglio! È troppo freddo! Meglio! Fa troppo caldo! Qui fa troppo freddo! È così divertente! Sara, il freddo è meglio! No, il caldo è meglio! Il freddo è meglio! Caldo! No, il super freddo! Caldo! Freddo detto! Caldo! Freddo! Caldo! Questa è la mia camera fredda! Questa è la mia camera calda! la mia camera calda è così bella! Adoro la mia stanza! È ora di andare da me! Uno, due, tre! Wow! È la mia stanza fredda! Yeah! La mia camera calda! Idea! Facciamo le palle di neve! Oh no! Questa è molto grande! Jason! Aha! Mi hai mancato! Giochiamo con la mia macchina! Oh no! È coperta di ghiaccio! Non funziona per niente! Sara, puoi aiutarmi? Aspetta! Posso aiutarti! Fatto! Wow! Ecco a te, Jason! Mille grazie, Sara! Hai visto, Jason? Il caldo è bello! Oh no, Sara! Hai bisogno di ghiaccio! Ecco a te! Ora va meglio! Sì! Grazie, Jason! Fantastico! Vedi? Il freddo è molto meglio! Ho un po' di fame! Mangiamo! Ah! Auge! È congelato! I miei denti! Posso aiutarti? Grazie, Sara! Bene! Ora aspettiamo dieci minuti! Uh! È pronto! Bene! È bellissima! Ecco, tieni, Jason! Grazie mille! Buon appetito! Grazie! Grazie! Ho fame! Vediamo cosa abbiamo qui! sediamoci! Oh! Cos'è questo? Oh! Oh! Brucia, Jason! Aiutami! Che cosa c'è che non va? Brucia! Una tazza di acqua e ghiaccio sarà perfetta! Prepariamo l'acqua fredda! Questo l'aiuterà! Aaaaaaah! 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 Wow, ora va meglio! Grazie, Jason! Vedi? Il freddo è meglio! Sto cucinando! Oh! Oh no! Uuuuuh! Jason, aiutami! Vieni, Jason! Il pavimento è di lava! Jason, aiutami! Corri! No! Lava! Jason, aiuto! Ti prego, forza! Jason! Non ti preoccupare! Ti sto aiutando, Sara! Ottimo lavoro, Jason! Grazie! Grazie mille! Ha commesso un errore! Il freddo va bene! Anche il caldo va molto bene! Iscrivetevi, ragazzi! Wow! Gattino, andiamo! Andiamo, forza! Hooray! È così carino! Sara, ci sono altri gatti da salvare? Certo! Torno subito! E vai! Eccoli, Jason! Ma fai attenzione! Sono molto piccoli! Wow! Sono così teneri! Oh! Dimenticavo! Devo prendere il cibo per gatti! Potete badare a loro? Ma certo! Guarderemo il gatto e tutti i gattini! Ma certo! Non ti preoccupare! Ok! Ma fate molta attenzione! A presto! Sì! Se n'è andata! Che facciamo adesso? Giochiamo un po'? E va bene! Andiamo a giocare un po'! Forza! Ti batterò, Jason! Ti batterò, sappilo! Vincerò io! Che dici? Forza! 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 Dai! Sì! Ne fai! Ci posso credere! Alex, ma non dovevamo guardare il gatto e i gattini? Potete guardare i gattini? Sì! Mi ricordo qualcosa! Controlliamoli! Forza! Non ci sono più, Alex! Non vedo più il gatto! E sono spariti tutti i gattini! Oh no! Non ci credo, Alex! Dobbiamo cercare tutti i gattini, hai capito? Sì, ma certo! Andiamo! Forza! Ok, tu vai di là, mentre io di qua, ok? Non ci sono! Oh no! Dove sono? Ah! Non ci sono! Dove sono finiti? Forse sono andati in un'altra stanza! Ah! Che facciamo? Come facciamo a trovare tutti i gatti? Mettiamo un po' di insegne, no? Idea grandiosa! Vai di là! Io di qua! Amici e amicetti smarriti! Mettiamone uno qua e l'altro da questa parte! Anch'io voglio metterli! Micetto smarrito e altro micetto smarrito! Oh no! Eccone altri! Forza! E ancora due! Ci servono altri cartelli! Questi dove li mettiamo, Jason? Te lo faccio vedere! Ah! 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 Io non riesco a vedere molto bene! Tu ci riesci? Forse su quel divano! O forse su questo! O magari di là! Oh! Eccolo qui! Non ci credo! Abbiamo trovato il gatto! Sì! Riportiamolo in cuccia! Ed ecco che lo riportiamo in cuccia! Forza! Entra! E rimani qui, ok? Mi raccomando, resta lì, gattino! E ora cerchiamo gli altri! Dove saranno, Jason? Forse sono qui! No! Oh no! Dove sono? Oh no! No! Forse qui? No! Forse in un'altra stanza! Eccolo lì! Guarda! Si nascondeva nel vagone del treno! Ti riportiamo indietro, piccolo micetto! Ultra piccolo micetto! E vai! Andiamo a cercare gli altri gattini! Forza! Forza! Corriamo! Li ho trovati! Che carini! Eccoli qui! Oh! Che amabili! Che dolci! Mettiamoli di nuovo nella loro cucetta! Ecco fatto! Che dolci! Abbiamo trovato tutti i micetti! Adoro troppo i gatti! Sono bellissimi! Ciao ragazzi! Ho comprato il cibo per gatti! È andato tutto bene? Ma sì! Certo! Non poteva andare meglio! Certo che no! Ok! Bene ragazzi! Aspettate un attimo! Ragazzi! Ehm... Io ho dei lamponi! E io ho delle ciliegie! Salute! Ah! Mi fa male la pancia! Anche a me fa male! Come è possibile però? Beh! Chiediamolo a Sara! Chiamerò Sara allora! Una telefonata! Pronto? Ciao Sara! Ciao Jason! È vero che le caramelle possano fare tanto male al panzino? Sì! È vero! Le caramelle sono molto poco salutari! Dovresti comprare un po' di frutta da me! Lo dici davvero? Veniamo subito certo! Ci vediamo dopo! Ah! Non credo a Sara! Au! Oh no! Ho preso tantissimo frutta! Oh ciao! Posso avere della frutta? Oh! Ciao Jason! Posso avere della frutta? Voglio sentirmi meglio! Sì! Naturalmente! Scegli quello che preferisci! Sai che c'è? Voglio tantissima anguria! 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 Tantissima anguria! Hai capito bene? Ho sentito anguria? Sì! Anguria! 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 Tantissima anguria! Bene! Sono cento dollari! Prendili pure! Ecco a te! Grazie Jason! E' pesante! Ecco il tuo cocomero! Grazie mille! Non è pesante! Alex! Guarda che cos'ho qui per te! E' un'anguria così grande e così pesante! Non era meglio una fetta! Ma come ti è venuto in mente di prendere un'anguria così grande? Scusa! Ok ok! Mi dispiace! Sara! Ho bisogno di tante fette di anguria! Certo! Ci penso io! Anguria a fette! A fette! A fette! Anguria a fette! Sì! Ecco Jason! Grazie Sara! Ciao ciao! Ed ecco a te! Anguria a fette! Pensi che ci faccia bene questo cibo? Ma certo! La frutta è più sana delle caramelle! Molto bene! Grazie! Ok! Ok! Wow! La frutta mi fa sentire proprio bene! E ha un sapore migliore delle caramelle! Sai! Comprerò tutta la frutta da Sara! No! La comprerò io! No! La comprerò io! Hai capito? Vendo frutta! Frutta sana! Frutta! Vogliamo tutta la frutta che hai! Cara mia Sara! Tutta la frutta del mondo! Sì! Un attimo! Cosa? Volete ordinare tutta la frutta? Non si può ordinare tutto quanto! Come farete a portarlo? Con voi! Forza Jason! Andiamo a prendere il treno! Ok! Va bene! Ci vediamo dopo! Ed eccoci col nostro trenino! Vogliamo tutta la frutta Sara! Va bene! Ed ecco qua! Che bello! Metti qui forza! Ecco! Forza! Dammeni ancora che aspetti! Ecco! Forza ancora! Tieni! Dragon fruit! Wow! Fragole! Oh! E anche delle arance! Bene! Gli ultimi due! È tutto! Grazie mille Sara! Saremo davvero super sani adesso! Sì! Ma ragazzi! E i miei soldi? Vengo a te tesoro! Oh! Va bene! Grazie! Arrivederci! Ciao! Andiamo! Forza! Ciao! Ed ecco della buona anguria! Solo cibo sano! Mi sento davvero molto meglio! Mangiate sano anche voi, bimbi! Mangia sano tu e anche tu!